L'estate è finita, ma la stagione calda, forse, ha ancora un'ultima cartuccia da sparare, il Rally Terra Sarda. La celebre gara insulare, che fa di Porto Cervo il punto nevralgico, è giunta ormai alla sua dodicesima edizione, valevole sia per il Coppa Rally di Zona 9, sia per il Tour European Rally. Costa Smeralda e Gallura saranno i due attori principali del rally organizzato dalla Porto Cervo Racing. Una competizione ad alto tasso tecnico, che sarà accompagnata da numerose iniziative collaterali, per far vivere la corsa a 360 gradi all'interno del villaggio rally creato a Porto Cervo. Gli oltre 100 iscritti sono pronti a darsi battaglia nelle 12 prove speciali, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre. Le telecamere di Rally Dreamer vi porteranno in diretta subito alla prima prova speciale, Arzachena. Inizieremo quindi sabato alle 13.30 con la PS1 e dalle 17.30 con la PS4. Le dirette proseguiranno domenica nell'arco di tutta la giornata, con la classica Porto Cervo, la prova più iconica del rally Terra Sarda, con la PS9 dalle 10.30 e la PS10 dalle 13. Non dimenticatevi di seguire le nostre dirette sui canali YouTube e Facebook e commentare con Mirko i passaggi dei vostri piloti preferiti. Vi aspettiamo e sempre tanta roba! Grazie a tutti! Grazie a tutti!